Il Molise sta vivendo il dramma più grande, conta altre 5 vite spezzate dal coronavirus. Non ce l'hanno fatta una donna di 60 anni di isola Caporizzuto, ricoverata poche ore prima in terapia intensiva. Altre due donne di 80 e 90 anni di Vasto Girardi e Boiano e due uomini di 82 anni di Campobasso e 87 di Civitanova del Sannio si sono aggravate inoltre alle condizioni di un paziente di Termoli trasferito in terapia intensiva e qui ora ci sono complessivamente 12 degenti dopo l'ulteriore ricovero di una persona di Santa Croce di Magliano, 59 invece i pazienti in malattie infettive, qui altri 6 ricoveri nelle ultime ore. Dall'analisi di 1280 tamponi sono risultati positivi al Covid altri 149 cittadini, 37 a Campobasso, 13 a Termoli e 10 a Isernia, 9 a Montaquila, 8 a Castel del Giudice, 6 a Mirabello Sannitico, 5 a Venafro e Montenero di Bisaccia, 4 ad Agnone, 3 a Boiano, a Capracotta, a Cerce Maggiore, a Fornelli, a San Martino in Pensilis, a Santagapito, 2 a Guglionesi-Larino, Macchia Godena, Montagano, Pozzilli, Riccia, San Giacomo degli Schiavoni, Santa Croce di Magliano e Sessano. Infine un caso in ognuno di questi comuni, Campo di Pietra, Campomarino, Colle d'Anchise, Forli del Sannio, Macchia di Sernia, Matrice, Monte Falcone nel Sannio, Montenero Valcocchiara, Monte Roduni, Palata, Pesco Lanciano, Pietra Catella, Sant'Angelo del Pesco, Sesto Campano e Bastogirardi. Positiva anche una persona di Sant'Angelo, Lodigiano, che si trova in malattie infettive. Gli attualmente positivi in Molise sono 2.651, a livello nazionale 28.352 nuovi casi, con ancora un numero impressionante di vittime, 827, ma i guariti superano i contagiati, più di 35.000 in tutto il paese. Nelle ultime ore in Molise invece si sono negativizzate 169 persone.